Siamo in chiusura, l'ultimissima cosa non c'entra niente ma voglio chiedere, siamo lontanissimi ancora da eventuali elezioni per il governo, però ormai si dice che Di Maio potrebbe essere uno dei candidati del Movimento 5 Stelle, lei lo vedrebbe bene? Sarà la rete, come si dice noi sempre, a decidere, perché comunque noi rimaniamo fedeli all'idea delle primarie online e la rete esprimerà qualcosa. Io credo che in questi anni il Movimento 5 Stelle ha dimostrato un grande valore, perché è un corpo assolutamente energico, studia, lavora, è preparato il parlamentare del Movimento 5 Stelle, fatemelo dire, anche il consigliere regionale e anche i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle studiano, stanno lì, stanno lì continuamente, noi in un ottavo dei consiglieri si è fatto un quarto di tutti gli atti, siccome si guadagna la metà si è prodotti il 400% in più degli altri.